buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 7 giugno 2023 una giornata in cui molte città si legano le ferite provocate dal maltempo dei giorni scorsi si cerca di riparare tutti i danni si cercano finanziamenti si cerca soprattutto di evitare che in futuro si ripetano simili occasioni ma non sarà certamente facile allora noi prima di sfogliare i giornali diamo un'occhiata all'almanaco del giorno per individuare chi è il santo di oggi ed eccolo nella grafica si tratta di san roberto di new mister ovviamente è un santo inglese ma è noto e soprattutto è stato venerato per la diffusione in tutta europa e anche in inghilterra dell'ordine francese di sito ovvero dei cistercensi un ordine che è dilagato e ha portato tanto tanto sollievo ai soprattutto ai deboli ai miseri ai contadini che ovviamente costituivano la classe più fragile nel medioevo in tutta europa francia inghilterra italia le previsioni atmosferiche ieri tempo buono su fano oggi dovrebbe essere la stessa cosa comunque il tempo è in evoluzione tempo ancora instabile nelle zone interne soprattutto con temporali e rovesci pomeridiani le temperature sono in lieve aumento ieri la massima era sui 23 gradi oggi un grado in più 24 le minime si sono attestate a 17 gradi i venti sulle coste provengono da ovest nell'introterra da nord est il mare è leggermente mosso insomma la situazione dovrebbe non essere molto molto dissimile da quella che si è verificata nella giornata di ieri e ci ho detto allora apriamo il giornale partiamo dalla pagina di fano del corriere adriatico e vediamo l'apertura ho parlato delle conseguenze del maltempo e l'apertura è proprio dedicata a questo argomento fano in ginocchio 40 gli interventi delle squadre di soccorso durante anzi subito dopo il maltempo dei giorni scorsi il presidente dell'aset paolo reginelli dice non è colpa nostra il presidente respinge le accuse del centrodestra i partiti ovviamente hanno reagito dopo quanto si è verificato perché dicono che molto è colpa dell'amministrazione comunale oppure degli organi ad essi associata non è colpa nostra ma della mancata pulizia delle caditoie questo è un problema problema che si che permane da diverso tempo occorre procedere più diciamo più operativamente nella pulizia delle caditoie perché se poi le fogne ricevono ebbene gli allagamenti non si verificano altrimenti invece l'acqua ristagna e allora si fanno enormi enormi pozzanghere troppa acqua comunque è caduta nei giorni scorsi in brevissimo tempo e quando le precipitazioni sono così copiose può provocare seri problemi può provocare qualsiasi problemi anche un piccolo inconveniente un piccolo problema come una fogna come una fogna intasata dalle foglie per esempio oppure da qualcosa che ci si è messo sopra e non ha impedito all'acqua di appunto andare verso il depuratore e il presidente reginelli esclude che a fano ci sia stata carente manutenzione delle caditoie stradali ipotizza invece ipotizza ipotizza invece che il centrodestra abbia assunto queste prese di posizioni per una questione politica reginelli punta soprattutto il dito contro l'anomalia del recente del recente evento atmosferico un'anomalia che ha fatto cadere in pochissimo tempo 40 millimetri di acqua una quantità veramente eccezionale difficile da contenere in qualsiasi situazione poi nell'articolo si esamina anche la situazione di piazzale a mendola quel piazzale che prima si allagava costantemente e ora continua allagarsi nonostante che sia stata realizzata una fossa di contenimento dell'acqua che dovrebbe ricevere appunto l'acqua piovana senza farla espandere in tutto il piazzale questo però non è avvenuto e il piazzale si è allagato ugualmente che cosa è accaduto secondo quanto rivelato dagli organi responsabili erano ancora al in atto i lavori per l'allargamento delle caditoie e questo ha impedito appunto all'impianto di funzionare in maniera efficiente vedremo se il prossimo evento atmosferico quando i lavori saranno finiti se tutto funzionerà a dovere e ma il temporale non ha provocato danni soltanto sulla costa ma anche nell'entroterra e vediamo un articolo che riguarda Cagli temporale a Cagli territorio subito in crisi difficoltà varie anche a Cantiano ampliato il fronte della frana allargati garage e scantinati ma il tempo comunque continua a imperversare su un territorio che in realtà è molto più fragile di prima perché già provato dal dissesto un nuovo temporale si è infatti scatenato ieri tra Cagli e Cantiano rovesciando pioggia assecchiate per circa un'ora a partire dalle 4 e mezzo del pomeriggio subito in sofferenza il reticolo dei fossi tracimati in alcuni punti e la rete fognaria di Cantiano Cantiano veramente ne ha viste di tutti i colori in questi mesi vediamo il secondo titolo di apertura del Corriere Adriatico la corte ritorna ad animarsi cos'è la corte la corte malatestiana questo bellissimo suggestivo ambiente della città di Fano che risale appunto ai malatesti quindi un ambiente mediovale seppur rimaneggiato nel corso del tempo era adibito a spettacoli teatrali da otto anni è stato così messo un po' in disparte escluso ora invece ritorna a vivere ritorna a vivere perché ieri l'assessore alla cultura Cora Fattori ha presentato un programma di animazione della corte la corte a cui verrà ripristinata alla sua funzione teatrale solo 150 posti al momento 150 posti a sedere non ci sarà un palco con tutte le strutture teatrali ma semplicemente il palco naturale della corte ma intanto lì si faranno diversi spettacoli a partire dalla fine di questa settimana quando ci sarà una uno spettacolo proposto da umanesimo artificiale è quella musica particolare che propone l'associazione e poi tante tante altre iniziative pensate ci saranno concerti ci saranno rappresentazioni soprattutto concerti la musica perché poi alla corte con questo magnifico scenario è molto molto più valorizzata ma probabilmente sarà proprio qui che sarà ricevuto il nuovo vescovo monsignor andrea andreozzi quando arriverà a fano monsignor trasarti fu ricevuto al pincio ovviamente anche questa è una cornice molto suggestiva e probabilmente monsignor andreozzi sarà ricevuto questa almeno la proposta fatta alla curia dall'amministrazione comunale poi magari i programmi possono cambiare ma al momento la corte dovrà essere la cornice per ricevere il nuovo presule e poi le iniziative continueranno fino al 2 settembre prossimo quando sarà l'orchestra mosaico a chiudere tutte le manifestazioni ovviamente protagonista principale sarà anche l'orchestra rossini che organizza il symphony pop festival di cui proprio questa mattina sarà la presentazione ed ora parliamo di sport e parliamo di sport però sotto una visione particolare quella del fire play un obiettivo perseguito in modo particolare dal panathlon club di fano fair play uno stile di vita per 550 studenti 550 studenti che sono stati riuniti al palace alliende nei giorni scorsi sono gli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado degli istituti padalino nuti e gandiglio a punto una iniziativa per insegnare ai giovani il vero valore dello sport che non è quello della vittoria a tutti i costi ma è quello di una pratica sana dello sport con il rispetto dell'avversario in certi casi anche l'aiuto all'avversario ebbene dal presidente francesco savelli e dalle altre autorità c'è stata la consegna della coppa coni a gioia calcinari della nuti delle coppe panathlon a giovanni bighetti della padalino e sara rosati della nuti poi una borsa di studio da 200 euro e premio comune di fano a martina mencoboni della padalino una borsa di studio e premio panathlon a michelangelo vergoni della nuti infine una borsa di studio e premio schnell ad agata biancolini del gandiglio che sono stati i ragazzi che sono stati premiati e poi ieri è stata presentata una bella iniziativa che ormai si ripropone di un anno in anno stata sospesa solo durante il covid da parte dell'avis di fano colora la vita una corsa bizzarra coloratissima che si svolge nel circuito della trave dove centinaia centinaia di giovani si coloreranno con queste polveri colorate e inneggeranno la vita e poi perseguiranno un fine sociale molto molto nobile che è quello la tassa di iscrizione per esempio verrà devoluta ad una associazione che cura soprattutto l'autismo una associazione dunque dunque sì abbiamo l'associazione dell'autismo e poi abbiamo in collaborazione anche con l'admo l'associazione dei donatori di midollo osseo l'avis e sostiene anche la campagna di sensibilizzazione match for life per informazioni e prenotazioni chiamare susanna 388 370 4462 ebbene è una iniziativa questa benemerita in modo particolare perché persegue fini sociali e l'associazione quella dell'anfalos che da tanto tempo si occupa di questi ragazzi i quali saranno presenti poi a questa iniziativa che si svolge alla trave giriamo la pagina giriamo la pagina e passiamo a colli al metauro ebbene si parla di riserve idriche perché c'è stato un convegno un incontro con l'ingegnere Michele Ranocchi che è direttore tecnico dell'autorità di ambito territoriale ottimale di Marche Nord ebbene l'acqua caduta in grande abbondanza in questi ultimi tempi non deve trascurare non deve far trascurare il problema di vincere la siccità perché prima o poi questa si ripresenterà a causa dei cambiamenti climatici come dunque vincere la siccità è quella di proporre delle riserve idriche ovvero degli invasi è un grande invaso si prospetta di realizzarlo nel comune di Apecchio è emersa a questo proposito una novità di rilievo perché sarà possibile accedere ai finanziamenti del PNRR i tempi per l'eventuale realizzazione possono essere anche tra 10 e 12 anni quindi è tempo di muoversi appunto subito e a Mondolfo si recrimina ancora per la guardia medica un servizio che è stato sospeso e che invece è strettamente necessario soprattutto in questa stagione che è la stagione turistica dove le prestazioni sanitarie richieste aumentano sempre di più la guardia medica chiusa si alza una nuova protesta un attivista di Mondolfo scrive alla nuova direttrice dell'azienda sanitaria territoriale uno storti e all'assessore salta martini torna dunque alla ribalta la questione della guardia medica di Mondolfo all'ospedale Bartolini si chiede un potenziamento del personale durante la settimana dato che nel mese di maggio era stata garantita soltanto nel weekend Daniele Ceccarelli e questo è il cittadino che ha elevato questa protesta già esponente del comitato cittadino e del comitato di salute pubblica ha inoltrato un email di sollecito all'amministrazione comunale alla regione eleccando una serie di proposte quindi un servizio veramente essenziale per Mondolfo veniamo a Senigallia a Senigallia si è attivata la guardia di finanza e ha elevato diverse contravenzioni diverse multe a alcuni operatori che non osservavano le regole feste senza scontrini dipendenti in nero c'è l'offensiva contro i furbetti delle tasse e il pugno di ferro della finanza che negli ultimi tempi ha realizzato una rete stesa di controlli pescando veramente con le mani nel sacco alcuni operatori sono accusati di aver assunto lavoratori non in regola e poi è stata applicata anche una maximulta a un ristorante orientale si tratta di 40.000 euro per il titolare di un ristorante orientale trovato un lavoratore non in regola e per altri dieci pakistani parte degli stipendi e degli straordinari venivano pagati in nero è accaduto in via a Bagnano a Senigallia e poi i finanzieri nel tardo pomeriggio di lunedì hanno chiuso il negozio di una parrucchieria cinese in via Mastai beccata per ben quattro volte a non emettere lo scontrino in meno di cinque anni violazione che prevede la chiusura dell'attività per tre giorni inoltre il titolare di un ristorante sul lungomare Mameli è stato multato per non aver registrato il corrispettivo per un battesimo per una festa di battesimo incassando in nero 2.300 euro stessa cosa accaduta in un locale del lungomare Alighieri dove per una festa delle scolaresche il titolare non aveva registrato 1.000 euro insomma sono stati fatti dei controlli dei controlli severi e sono state poi applicate le relative sanzioni un ragazzino in bici è stato travolto da un'auto condotta da una donna che non si è fermata a prestare soccorso alla vittima lo ha denunciato la mamma del bambino un 14enne che è rimasto ferito alla guida dunque c'era una donna il fatto è avvenuto alla cesanella è la cesanella è accaduto il 2 giugno e ieri la donna ne ha parlato per far sapere a chi ha investito il figlio senza aiutarlo come stesse come stesse appunto dal punto di vista fisico la donna non sembra intenzionata a sporgere denuncia pensate avrebbe tutto il diritto di farlo non lo fa soltanto voleva far sapere alla donna che il suo bambino era in quelle condizioni insomma un caso di coscienza soprattutto vediamo ora qualche notizia che riguarda pesaro dove l'apertura è dedicata al cantiere della stazione ferroviaria che sta per iniziare vale 8 milioni questo nuovo intervento che rifà un po' il lucca ad un punto centrale della città di pesaro molto molto vicino al centro storico ebbene vale 8 milioni il pacchetto dei lavori per la riqualificazione dell'area si parte entro la seconda metà di questo mese e l'intervento sarà diviso in due fasce in due step il progetto si propone di riqualificare tutta la stazione ferroviaria e viene finanziato da reti ferroviarie italiane insomma da RFI il cantiere durerà circa un anno e verrà riqualificato anche il deposito delle biciclette 140 mila euro con un contributo regionale per 80 mila euro un bilancio comunale di 60 mila quindi c'è una compartecipazione di carattere finanziaria e poi l'area ex metro park 627 mila euro finanziamento delle ferrovie stazione di posta housing sociale 910 mila euro circa un milione presi dal PNRR questa è un po' la situazione finanziaria del progetto e poi c'è una protesta nel corso di Pesaro perché gli esercenti, i negozianti non erano stati avvertiti dall'inalzamento di una impalcatura che li ha come imprigionati e vedete qui la fotografia questa è l'impalcatura in un corso che in realtà è piuttosto stretto e quindi invade molto della careggiata della via principale della città e questa è la fase di montaggio per i lavori di restauro di Palazzo Ducale quindi la fiancata di Palazzo Ducale voglio segnalarvi anche l'intervento del sindaco Matteo Ricci a nove anni di esercizio del suo mandato amministrativo ebbene il sindaco Matteo Ricci di fronte alla deblac elettorale per il partito democratico che si è svolta durante le ultime elezioni dice a Pesaro il centrodestra non ne toccherà palla io ho usato il futuro, lui usa il presente da qui partirà la conquista della regione faccia faccia dunque con il sindaco Ricci il mio futuro scriverò un libro ha detto ma ovviamente questo è un episodio così tanto per mascherare quello che sarà il futuro e sulla sanità invece dice è molto peggiorata Pesaro non sarà un'altra ancona ha detto il sindaco anzi partirà da qui la rivincita del partito democratico per la riconquista della regione Marche nel 2025 quando ci saranno nuove elezioni siamo stati i primi a legarci a 5 stelle con cui non lavoriamo bene ma benissimo e poi abbiamo continuato con Europa Verde e vogliamo allargarci ancora una iniziativa che ha consolidato la giunta comunale di Pesaro con l'allargamento delle maggioranze mentre magari a Fano il PD rimane solo con il civismo mentre 5 stelle è rimasto all'opposizione Antenna al parco, altra interrogazione a Roma vediamo questa antenna di Fiorenzuola che continua a destare proteste ma rimane al suo posto anche Europa Verde chiede di spostare l'impianto di Fiorenzuola e poi c'è il problema della discarica di riceci discarica scontro all'assemblea dei soci il sindaco dice stop al progetto serve un piano B un piano in alternativa alla discarica di riceci perché anche il sindaco ormai ha capito che non è possibile realizzare questo impianto di stoccaggio dei rifiuti in un ambiente incontaminato bellissimo come quello delle colline di riceci ma il manager T. Viroli il manager di Marche Multiservizi conferma che la sua società andrà avanti e era diteci qual è l'alternativa dice a riceci non si può dire che lì non va bene e poi magari non si dice dove va bene e quindi noi andiamo avanti per conto nostro vedremo fino a che punto riusciranno a proseguire e poi abbiamo una giustificazione da parte della proprietaria dell'abitazione che doveva essere occupata dalla famiglia Moneti la famiglia del giovane Alessandro Moneti che è versa in una carrozzella che ha subito uno sfratto che al momento è parcheggiata in una abitazione che avrebbe dovuto lasciare per andare appunto in questa nuova però tutto si è bloccato e ora è tutto nelle mani degli avvocati e poi voglio segnalarvi anche questa notizia sul Corriere Adriatico non siamo nel Medioevo ma è come se lo fossimo nei vostri monili d'oro c'è il diavolo dateli a noi che leviamo il malocchio ebbene c'è ancora chi crede al malocchio e ci crede che il diavolo possa albergare negli anelli, nei monili, negli oggetti d'oro allora cosa fanno? li danno a coloro che riescono a levare le fatture ma sono ovviamente dei malfattori in questo caso sono delle malfattrici che si sono approfittate di madre e figlia lei di 80, la figlia di 50 anni le quali hanno consegnato tutti gli ori perché erano oggetti indiavolati e ovviamente le altre ci sono approfittate e le hanno portate via vediamo ora la pagina di Urbino PNRR 6 milioni per Palazzo Ducale via le barriere fisiche e cognitive il direttore Luigi Gallo presente i lavori che saranno al via da alcuni giorni la Galleria delle Marche non chiuderà comunque mai un progetto che prevede anche il rifacimento del sito online e che costerà appunto 6 milioni di euro vediamo ora l'apertura sul resto del Carlino dedicata alla Corte Malatestiana la Corte si risveglia dopo 8 anni tornano gli eventi e vediamo anche gli effetti del maltempo sulla Darsena Borghese è caduto un pino su una imbarcazione e veramente ha procurato diversi danni e poi un articolo che riguarda Piazzale a Mendola con l'alluvione che c'è stata nei giorni scorsi a Lido si lavora ma ormai è veramente una barzalletta perché ci sono poi tutti gli attacchi politici dell'opposizione che accusano l'amministrazione comunale di incompetenza e qui invece abbiamo un atto di buona sanità muore in ospedale a 75 anni la famiglia dona fegato e corne il prelievo multiorgan è stato effettuato all'ospedale Santa Croce la nuova direttore generale Storti dice un grande lavoro effettuato dai medici e con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci